Sarà la Basilica di San Giovanni a Scafati domani mattina alle 10.30 la location per la 16esima edizione del premio Albatros di Poesia, Narrative e Arte. Tra i premiati l'attore napoletano Lella Arena e la cantante soprano Nocerina Anna Corvino. Il premio Albatros noi abbiamo unito l'anima giornalistica, quindi il mensile, da noi editato e poi invece l'anima editoriale, quindi i libri narrativa. Le due sezioni vedono premiati i premi speciali cultura di tutto il mondo, dal sociale alla musica al teatro e ad altro e poi ci sono anche tanti autori emergenti che noi premiamo proprio con le pubblicazioni dell'opera. Tra i premi speciali cultura Luisa Daniele, l'abbiamo ammirato nelle fiction, Lello Arena anche lui conosciutissimo e poi però i giovani che arrivano e che sono grande persone. Giossada, nuovo emergente cantante, le coliche su web ci fanno ridere e come con la loro comicità, Fabio Moll, musicista, Claudio Sona, scrittore, Agnese Serapica, scrittrice, Raffaele Cirello, regista, un'Emilia Zamner, anche lei cantante, Cosimo Alberti, Ciro Carbone, musicista, Anna Corvino, soprano e che della terra di Nocera e dell'Agro. Si legge sempre di meno anche se devo dire per nostra fortuna Albatros in buona salute, Albatros in buona salute sia da un punto di vista cartaceo sia da un punto di vista però anche sul web perché comunque non dobbiamo dimenticare che se cambia la modalità di lettura, ebbene noi che siamo nel giornalismo, che siamo nella comunicazione, cambiamo anche noi la modalità di lettura. Noi manteniamo la nostra fedeltà ai libri, sono una scrittrice quindi come potrei non amare, disfogliare, spiegazzare un giornale e un libro. Sono nata prima poeta, poi scrittrice, poi giornalista, quindi diciamo che è l'approccio diverso alla notizia. Il premio Albatros vuole premiare proprio questo, i nostri intervistati perché regola prima è essere intervistato su Albatros, regola seconda è fare qualcosa di buono nella società così come queste personalità che anche se sono premiate per la loro professionalità però noi sappiamo e per questo li premiamo che fanno anche tanto per il sociale perché è vero essere VIP non significa poi vivere solo nella propria casa, nel proprio giardinetto ma guardare il mondo, gli altri e sostenerli e loro lo fanno.